La Banda della Mercedes Non ti preoccupi, ci metterò poco L'operazione... Zemi Abbiamo identificato la macchina Ricevuto? Ripeto, centrale, abbiamo identificato la macchina dei complici Cavolo, ho finito le munizioni! Non è quello il problema, sono andati via tutti già da un pezzo Davvero? Guarda se non ci credi, il garage è vuoto, non c'è più nessuno È vero, se ne sono andato È vero, se ne sono andato Di un po', è così che friggi i sospettati? O l'hai fatto solo per farmi piacere? Calma, fammi una domanda per volta Grazie a tutti! Grazie.